Si potrà scegliere tra Canon e Spot per guardare YouTube. La piattaforma di video streaming di Google lancerà entro l'anno il servizio premium. Abbonandosi per una cifra che dovrebbe aggirarsi sui 10 dollari al mese, sarà possibile vedere i video senza pubblicità. I ricavi verranno poi divisi secondo quanto fa sapere la compagnia con i creatori dei contenuti. YouTube si incammina sulla strada tracciata da Netflix e Hulu, così come ha cominciato a fare a novembre per i video musicali con la versione beta di Music Key, lanciandosi nella concorrenza Spotify e Deezer.